Simone Giglio Simone Giglio, nuovo sindaco di San Mignato Salve, ci vediamo qui a Milano, una tradizione che abbiamo sempre rispettato perché è anche un modo per incontrare tante aziende nel nostro territorio e anche carpirne gli umori in primo giorno di fiera Come ha trovato tutti questi stand? C'ero già stato naturalmente anche negli anni scorsi, è sempre una bellissima manifestazione, tante aziende nel nostro territorio con dei bellissimi stand, giustamente tante aziende cercano di farsi belle anche per i propri clienti E' una vetrina fondamentale ed è giusta la nostra presenza sostanzialmente Poi so che voi siete in prima fila per la questione ambientale Sì, da sempre San Mignato insieme a tutto il distretto del Cuoio è all'avanguardia nella sostenibilità ambientale del nostro comprensorio Da oltre 35 anni attraverso Cuoio Depur depuriamo le acque delle lavorazioni conciarie e questo ha permesso uno sviluppo del nostro distretto che altrimenti non avrebbe potuto avere Grazie a tutti Grazie a tutti